Oggi un'emozione importante, una benemerenza che lo fa entrare nella storia della città. Quali sono le emozioni a caldo? Le emozioni a caldo? Perché io ho avuto molti assessori, però questa volta il sindaco Ruvolo ha pensato a uno che si è invegnato, magari chiedendo e facendo delle idee chiese che mio figlio Michele non vuole, però io volevo una processione religiosa più che altro, perché guardando le mare, se hai piede, come ho detto poc'anzi, ti metti a piangere perché non sono uguali a quelle di Sevilla, quelle non hanno più espressioni. Lì ci sono le congregazioni, ma noi siamo grandi, tutta la settimana santa. Cosa significa essere una parte della storia della Settimana Santa? Significa, non mi posso riprendere, perché io da piccolo tendivo di essere vecchio dalla settimana santa, tanto è vero che quando ho conosciuto mia moglie nel sessanta io ero una varicina, la più antica, del ventiquattro, fatta da un discepolo di Biancardi con un zanno di San Gattardo e di Cireneo. E poi magari mi sono fatto Gesù in Gondola madre con il Boramma dei Grimardi e infine abbiamo la varacinbola, non è la migliore, perché tutto è bello le varie. La varacinbola è la depozione, la scendenza, noi li chiamiamo siciliani, inizia. A chi dedica questa giornata e questa benemerenza? A tutti voi, a tutti voi, a tutti i nisseni, non la dedico né a mio figlio né a mia nipote, ai nisseni, perché questa benemerenza, i nisseni me l'hanno dato già prima dal sindaco, prima del sindaco, i nisseni, a Gordino, Taranto, Molpetta, me l'hanno già data questa, e a Seviglia, me l'hanno già data, perché a Seviglia siamo stati a Seviglia con la bandiera della Madonna del Rosario a Seviglia, a Svelare, con le lanterne. Ci sono andati i piccoli gruppi, mi conoscono pure l'altro. Che fine farà la settimana Santa? Io dico che conduriamo. Mi spaventa la real massazza, perché non ci sono gli artigiani, ma i piccoli gruppi, il detendore dei gruppi, sono attaccati più di me, i piccoli gruppi ci trovano le famiglie, quindi non si può mai perdere. Anzi, c'è un po' di cose, che voglio venduta per la vara, voglio venduta per la nonceventa, si è venduta questa la Sacavone e è stato fortunato che la cosa.